la mia speranza è che la lazio smentisca questo video che sto facendo adesso subito appena esce il video vorrei un comunicato stampa che annunci l'inizio della vendita degli abbonamenti perché ora è ora ragazzi ciao a tutti da vittorio se sei un tifoso da lazio questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò almeno un nuovo video sulla prima squadra capitale quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella a modo tale che youtube ti dovrebbe quando funziona inviare la notifica ogni volta che caricherò un nuovo video oggi voglio parlare di una cosa importantissima di una cosa fondamentale ormai per i tifosi ovvero gli abbonamenti la roma ormai un mese fa ha lanciato la campagna abbonamenti ha avuto un grande successo la lazio invece ancora nulla si diceva che la lazio stesse aspettando la pausa per le nazionali per far partire la campagna abbonamenti bene oggi è giovedì che è l'undici oggi giovedì 11 novembre ancora niente il campionato è fermo da domenica sono passati già quattro giorni ormai e la campagna abbonamenti che doveva partire lunedì non si è vista per niente e non ci sono notizie purtroppo a riguardo intanto però sono usciti i biglietti per lazio juventus il prossimo big match allo stadio olimpico anche la prossima partita è la curva e distinti costeranno 40 euro per i non abbonati per gli ex abbonati invece 35 euro parliamo di prezzi altissimi ancora una volta c'è il pericolo di trovarsi allo stadio olimpico e giocare fuori casa perché i juventini invaderanno lo stadio ovviamente soprattutto i juventini di roma perché la loro unica partita in cui possiamo andare a vedere la juve e quindi il settore juventino e probabilmente la sud sarà piena di tifosi della juve mentre il resto dello stadio potrebbe essere vuoto perché 40 euro solo per la curva sono un prezzo importante e soprattutto questi 40 euro arrivano dopo i 25 di domenica scorsa contro la salernitana i 40 contro l'inter i 40 contro la insomma sta diventando un salasso siamo a novembre e io ho speso molto di più di due anni con l'abbonamento e mancano ancora tantissime partite non è accettabile non è giustificabile il fatto che la roma sia riuscita a lanciare la campagna abbonamenti ripeto un mese fa e la lazio invece ancora niente e il risultato è questo che la lazio salernitana c'erano quasi più tifosi della salernitana che tifosi della lazio perché il tifoso laziale mica può permettersi di pagarsi un mutuo per andare allo stadio in più è vero tifoso laziale lo zoccolo duro va sempre allo stadio e così la lazio sta penalizzando quelli che vanno allo stadio ogni partita che tu gli metti il prezzo a 40 20 o 15 loro ci vanno comunque però così li stai fortemente penalizzando perché molti dei tifosi della lazio ormai sono diventati sedentari molti preferiscono vedere la partita a casa è anche vero che molti stanno fuori roma perché a roma ci sono più tifosi della roma che della lazio molti tifosi della lazio stanno fuori rieti milano latina eccetera e quindi andare allo stadio non è molto comodo per loro perché devono farsi un viaggio eccetera eccetera per cui la lazio già ha difficoltà cronica a riempire lo stadio se in più non fa partire la campagna abbonamenti beh questo diventa assolutamente impossibile non c'è un motivo valido per non far partire la campagna abbonamenti non ce n'è uno i casi stanno aumentando sì ma siamo ancora a livello bassissimo addirittura si pensa di aprire gli stadi al 100 per cento e noi non facciamo la campagna abbonamenti non è vero che c'è un pericolo di richiusura al momento non c'è assolutamente niente ripeto gli stadi stanno per incrementare al 100 per cento la capienza e noi invece non lanciamo la campagna abbonamenti la lazio non fa questo immagino per due motivi uno economico perché ovviamente l'abbonamento mi fa incassare di meno di vendere il biglietto ogni volta la lazio sa che c'è quel nucleo storico che va a tutte le partite o prova ad andarci a tutte le partite e quindi sai che con l'abbonamento ci rimetti perché quelli là tanto andranno a tutte le partite quindi se io faccio l'abbonamento incasso di meno e quindi questa è una motivazione economica la seconda è che non ha nessuna intenzione di aiutare il tifoso e questo purtroppo lo dobbiamo dire che l'abbiamo visto in tanti aspetti no la società lazio è forse la società di serie a più anti tifosa del mondo d'italia dell'universo eccetera non fa mai una cosa per il tifoso l'abbonamento è per aiutare i tifosi ma è anche una cosa importante perché sappiamo che il tifoso allo stadio lo stadio pieno aiuta la squadra a giocare meglio lo stadio vuoto sicuramente non aiuta la squadra nei momenti difficili o quando c'è bisogno di carica eccetera per cui anche qua c'è poca lucimiranza ma la lazio non fa mai niente per aiutare il tifoso mai l'altra volta c'è stato lo sconto per gli under 14 no gli under 14 potevano andare allo stadio gratis il problema è che tu dovevi comprare il biglietto online e poi dovevi andare a un lazio point per prendere il bonus per prendere il biglietto gratis per l'under 14 non si poteva fare tutto online no sempre le cose complicate sempre le cose difficili e questa è una cosa che si ripete sempre il tifoso della lazio è messo al margine di tutto e invece dovrebbe essere il primo pensiero della società perché sono i tifosi che fanno andare avanti le squadre di calcio senza tifosi le squadre di calcio non esisterebbero senza tifosi della lazio la lazio non ci sarebbe e questa è la realtà senza tifosi del milan non ci sarebbe il milan però il milan per esempio fa tantissime iniziative per i tifosi per i propri tifosi l'inter la roma anche la roma anni e luce avanti alla lazio da questo punto di vista calcolate che la lazio non riconosce neanche più i club sportivi no che ne so c'è sono amico dei ragazzi del lazio club toronto hanno più volte chiesto alla lazio semplicemente di essere riconosciuti ufficialmente non è mai successo non è che devono fare chissà che cosa la lettera al papa eccetera no basta solo riconoscere ufficialmente il club e non lo fanno perché perché è uno sbattimento perché non si va incontro ai tifosi questo è un problema grave il calcio è dei tifosi la lazio è dei tifosi la società sportiva lazio non fa nulla per aiutare i tifosi e la campagna abbonamenti è solo l'ennesimo esempio di questo comportamento come se la lazio fosse di lotito sì lotito è il presidente ma senza tifosi la lazio la lazio non sarebbe nulla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti